Dobbiamo lavorare insieme che Regione e Comune sono due facce della stessa medaglia, della capacità di programmare e di spendere in fretta il danaro. Ecco perché con un'operazione finanziaria a costo zero, la Regione Puglia utilizza la sua disponibilità di cassa per consentire ai comuni che invece non hanno questa disponibilità di fare immediatamente dei lavori indispensabili non solo per il decoro ma anche e soprattutto per la sicurezza. Noi abbiamo una visione pragmatica perché abbiamo fatto i sindaci, abbiamo fatto gli amministratori, non siamo persone calate dall'alto ma siamo persone che hanno risalito la scala della governance poco alla volta imparando dai cittadini e dai loro bisogni. Quindi ringrazio Lanci per la collaborazione che ci ha dato, ringrazio Lino Albanese per la semplicità del meccanismo che eviterà certamente problemi e contenziosi perché qui non c'è niente da discutere, è basato tutto su dati oggettivi e ovviamente il Vice Presidente Raffaele Piemontese che da buon amministratore comunale anche egli ha immediatamente individuato quella che era la sensibilità e l'urgenza dei comuni pugliesi. La Puglia in questo modo si potrà presentare non solo più bella, più ordinata ma anche più sicura e con la consapevolezza che i comuni si sentano sempre sostenuti dalla Regione. Noi non vi molleremo mai perché i comuni sono l'anima di questo Paese, dell'Italia e quindi potrete sempre contare su di noi come è sempre avvenuto in passato e come accadrà in futuro.